È una seccatura prendersi cura di te, quindi vivi qui. Con queste parole, sentii la porta chiudersi dietro di me. Poi ci fu un forte botto e una brutta sensazione mi assalì, facendomi prendere dal panico. Mike, ehi, sei lì? Mike, alzai la voce in preda all'ansia, ma non ottenni risposta. Il silenzio della stanza non fece che intensificare il mio panico. Mike, rispondimi. Oh! Oh! Non essendo abituato a questa sedia a rotelle, sbagliai a manovrarla e caddi. Ehi! Perché? Perché è successo? Se non avessi espresso le mie paure, mi sarei sentito schiacciato da esse. Dove sono nel mondo? Morirò qui, tutta sola? È stato quando le lacrime non si sono fermate a causa del mio rammarico e della mia tristezza. Catherine, al suono della porta che si apriva, mi sentii avvolgere dal calore. Tre giorni dopo, dalla televisione che aveva acceso, c'era un servizio su un negozio. Mentre ascoltavo. Ehi! Che diavolo è questo? La porta si aprì e sentii la voce della persona che più disprezzavo. Mi chiamo Catherine. Sono una lavoratrice di 32 anni, che ogni giorno fa del suo meglio in un'importante azienda. Fin da piccola avevo un sogno. L'ho visto in televisione da bambina e ne sono rimasta totalmente incantata. Da allora ho studiato molto per realizzare quel sogno e ora lavoro duramente ogni giorno per risparmiare. Dovresti lavorare sodo, ma senza esagerare, ok? Grazie. Ma lavorare per realizzare il mio sogno è davvero divertente. Ci credo. Mi piace vederti divertire. Chi ha detto di essersi innamorato di me che lavoro sodo è stato mio marito, Mike. Era un giovane della mia azienda e la nostra relazione è iniziata quando lui era il mio tirocinante. Mike, colpito dalla mia dedizione, mi ha chiesto le mie motivazioni e ha sostenuto i miei sogni. Alla fine la sua insistenza ha dato i suoi frutti e abbiamo iniziato a frequentarci. Dopo alcuni anni ci siamo sposati. Entrambi lavoravamo in grandi aziende. Quindi anche se mettevo da parte una parte del mio stipendio per il mio sogno. Non avevamo problemi finanziari. A proposito del mio sogno, ho un compagno che lo insegue con me. Catherine, come va da voi? Tutto bene, Emily. E tu? Certo. Ci manca solo un po' per raggiungere il nostro obiettivo. La mia migliore amica, Emily. Ho conosciuto Emily al liceo. Siamo diventate amiche intime grazie al fatto che condividevamo lo stesso sogno, creando un legame profondo tra noi. Da allora, Emily e io ci siamo sostenuti a vicenda, lavorando sodo per realizzare un giorno i nostri sogni. Prima di rendermene conto, il mio sogno era diventato il nostro. Uno dei miei piaceri mensili è controllare il saldo del mio conto di risparmio dei sogni. Più soldi vengono risparmiati, più mi sento eccitata, perché mi rendo conto che ci stiamo avvicinando al nostro sogno. Ma quando ho controllato il saldo questa volta sono rimasta scioccata. Dal conto di risparmio dei sogni erano stati prelevati circa 5.000 dollari. Solo due persone sapevano dell'esistenza di questo conto. Mike ed Emily. E tra loro, solo Mike sapeva dove fosse il libretto. Mi precipitai subito a casa e affrontai Mike, che se ne stava lì a poltrire. Ehi! Hai appena prelevato dei soldi dai miei risparmi da sogno senza chiedermelo? Sì, ne ho presi in prestito un po'. Preso in prestito? Sai quanto ho risparmiato per quei soldi, vero? Oh, smettila di assillarmi. Prima o poi li restituirò. Non sembrava minimamente pentito e io ribollivo di rabbia. Perché una donna di oltre 30 anni insegue ancora dei sogni? Non sei ridicolo? Che cosa hai appena detto? Ultimamente Mike si prendeva gioco dei miei sogni in questo modo. Tirava sempre in ballo la mia età, suggerendo che se ho il tempo di inseguire questi sogni, dovrei sostenere la sua giovane persona. Mike, tu mi sostenevi. Inoltre, questa non è una scusa per usare i miei soldi. Siamo sposati, i nostri soldi sono condivisi, quindi qual è il problema? Ci sono soldi che risalgono a prima che ci sposassimo. Dove hai messo il mio libretto? Dopo un po' di pressione, Mike ha consegnato il libretto con riluttanza. Devo trovare un posto migliore per nasconderlo. Smettila di lamentarti così tanto. Se hai risparmiato così tanto, usarne un po' non dovrebbe essere un problema. Sentendo Mike mormorare questo, qualcosa è scattato dentro di me. Io copro tutte le nostre spese di vita e l'affitto. Non ho bisogno che qualcuno che non contribuisce con un centesimo mi critichi. Che cosa? C'è una notevole differenza di stipendio tra me e Mike. Anche se ho iniziato a lavorare prima di lui, perché sono più anziano, ho mantenuto il massimo delle prestazioni. D'altra parte, le prestazioni di Mike non sono neanche lontanamente paragonabili, e spesso vengono superate da colleghi più giovani. Il motivo è il suo. Il tuo mentore sono stato io, ma quanti anni fa? Di chi è la colpa se non sei cresciuto da allora? Non puoi più sfruttare la giovinezza, quindi devi lavorare sodo per guadagnarti da vivere. Ultimamente, le nostre interazioni finiscono spesso in discussioni come questa. Solo qualche anno fa, Mike era solito dire cose come ti sostengo e continua così. È cambiato dopo che ho compiuto 30 anni. È stato allora che ha iniziato a chiamarmi vecchia e a parlare continuamente della mia età. Ogni volta che provavo a ribattere, Mike mi metteva il broncio e mi ignorava. Alla fine ero sempre io a scusarmi. Ma questa volta non me la sentivo di scusarmi. Dopo il grande litigio con Mike, chiamai Emily. Mi dispiace. Emily. Avevamo promesso di salvare insieme. È colpa di Mike. Non devi preoccuparti, Catherine. Provando rimorso e gratitudine per la risata indulgente di Emily, mi scusai di nuovo. Eravamo così vicini al nostro obiettivo di risparmio, ma a causa di Mike sembrava più lontano. Feci un sospiro involontario, che probabilmente Emily sentì al telefono perché ridacchiò. La felicità potrebbe essere fugace. A differenza mia, tu sei sposata. Catherine. È lecito aspettarsi qualche intoppo. 5.000 dollari non sono solo qualche intoppo, Emily. Sono contenta che abbiamo tenuto conti separati. Assolutamente. Dobbiamo stare più attenti a Mike d'ora in poi. Puoi dirlo forte. Poi, chiacchieriamo di cose banali. Fino a quel momento non avevo immaginato quello che sarebbe successo e non avevo mai pensato che la nostra amicizia si sarebbe potuta rompere. Mi stavo recando di solito a un appuntamento di vendita. Rivedendo i dettagli del contratto nella mia mente, stavo attraversando la corsia pedonale. All'improvviso, un'auto che era passata con il rosso sfrecciava verso di me. Perso nei miei pensieri, me ne accorsi troppo tardi. Un forte impatto e ho sentito il mio corpo che veniva sbalzato. Tra i rumori circostanti e il rumore dell'auto che si allontanava, incapace di muovermi per il dolore, ho perso i sensi. Catherine. Catherine. Emily. Catherine. Sei sveglia? Aspetta, vado a chiamare il dottore. Toccata dalla voce quasi lacrimosa di Emily, la mia coscienza cominciò a tornare. Cercai di aprire gli occhi, ma era buio pesto. Riuscivo a percepire solo i movimenti frenetici di Emily nelle vicinanze. Non sapendo cosa fosse successo e non potendo muovere le gambe, l'ansia mi riempiva. Poi un medico, chiamato da Emily, iniziò a spiegarmi. Potrebbe essere scioccante, ma vi prego di rimanere calmi. Catherine, i tuoi occhi sono stati danneggiati nell'incidente. Per farla breve, l'incidente mi aveva reso cieca e avevo perso l'uso della parte inferiore del corpo. Da quel momento in poi, ho vissuto la mia vita senza vedere e costretta su una sedia a rotelle. Perché era successo a me? Ero così vicino. Ero sprofondato in una profonda disperazione. Come potevo inseguire il sogno che eravamo così vicini a realizzare? Durante il mio dolore, Emily è sempre stata accanto a me. Catherine, non mi arrenderò. Lavorerò sodo per entrambi. Realizzerò il nostro sogno e te lo regalerò. Quindi non arrenderti. Sinceramente? Pensavo di rinunciare a tutto. Ma con il continuo incoraggiamento di Emily, ho trovato la forza di ripensarci. E poi? Catherine, quando ha saputo che avevo ripreso conoscenza, Mike si è precipitato al mio fianco. Durante la mia degenza in ospedale, è rimasto al mio fianco, confortandomi e aiutandomi a distrarmi dai miei problemi. Non provai altro che gratitudine per entrambi. Tuttavia, questo fu solo all'inizio. Emily smise di venire a trovarmi. Ora, nelle mie condizioni attuali, non potevo nemmeno contattare Emily. Ciò che mi devastò ulteriormente fu l'atteggiamento di Mike. All'inizio si intratteneva in chat, ma pian piano parlava di meno e faceva meno visite. Quando veniva in camera, sentivo solo il ticchettio del suo telefono. Ehi, Mike, come va il lavoro ultimamente? Perché dovrebbe interessarti? Le sue risposte erano fredde. Il suo atteggiamento mi ferì profondamente, ma ciò che mi fece più male fu l'assenza di Emily. In realtà, come luogo infallibile a cui Mike non poteva accedere, avevo affidato a Emily il libretto del nostro conto di risparmio da sogno. È un pensiero terribile, ma... Aveva smesso di venire perché era entrata in possesso di quel libretto? Forse a Mike non è mai importato nulla di me. Con questi pensieri, il mio sconforto aumentava. Da sola nella stanza dell'ospedale, i miei giorni erano pieni di lacrime. Dopo qualche tempo fui dimessa e tornai a casa. Francamente, ero piena di ansia. Va tutto bene. Sono qui per te. Rassicurata dall'improvvisa dolcezza di Mike, scelsi di essere dimessa. Dopo, salii sulla sua auto. La distanza tra casa mia e l'ospedale era breve, appena dieci minuti. Ma questo tragitto stava chiaramente richiedendo più tempo. Mike, dove siamo diretti? C'è un posto dove vorrei fermarmi. Ma io... Volevo tornare subito a casa e avevo paura di viaggiare senza la mia vista. Avvertendo la mia riluttanza, Mike parlò in tono sommesso. C'è un posto che ti aiuterà a distrarti, anche se non puoi vedere. È legato al tuo sogno. Sai? Il mio sogno. La prima persona che mi è venuta in mente sentendo questa frase è stata Emily. Aveva promesso di realizzarlo per conto mio. Ha detto che avrebbe realizzato il mio sogno e me lo avrebbe consegnato. Mi dispiace dirtelo, Katherine, ma Emily ti ha tradito. Emily? Come sarebbe a dire? Le parole di Mike mi avevano scosso. E non potei fare a meno di rispondere con voce tremante. In realtà, dopo che Emily è entrata in possesso del tuo libretto, è scomparsa. Da allora la sto cercando. Mi scuso per aver sfogato la mia frustrazione su di te in ospedale. Secondo Mike, il suo comportamento distaccato era dovuto al fatto che stava cercando Emily. Il continuo ticchettio del suo telefono era dovuto al fatto che stava contattando tutti quelli che conosceva, cercando di raccogliere testimonianze oculari. In quel momento non riuscivo a capacitarmi del tradimento e i miei pensieri si bloccarono. Normalmente, avrei colto qualsiasi incongruenza. Ma alla fine l'ho trovata. Affrontiamola insieme. Va bene. E mi ritrovai ad essere d'accordo. Il viaggio in auto continuò per quelle che sembravano ore. Quanta strada avevamo fatto. La mia ansia raggiunse il culmine quando Mike finalmente annunciò. Siamo arrivati. La macchina si fermò. Con l'aiuto di Mike, scesi dall'auto e mi sentii trascinare in un edificio. Mike, dove siamo? Non sento nessun altro qui. Ovviamente, perché questa è una casa abbandonata. Cosa? Ho percepito Mike allontanarsi. Preso dal panico, cercai di localizzarlo, ma senza successo. All'improvviso, la paura mi assalì. Mike, dove sei? Alle mie spalle sentii Mike virla. Sei una seccatura. Vivi qui e basta. In quel momento sentii una porta chiudersi dietro di me, seguita dal suono distinto di una serratura. Una sensazione terribile mi invase e cominciai a farmi prendere dal panico. Mike, sei lì? Mike. I miei richiami furono accolti dal silenzio. Nel silenzio assordante, il mio panico aumentò. Mike, ti prego. Au. Non riuscendo ad orientarmi con la mia sedia a rotelle sconosciuta, mi sono ribaltata. Per sbaglio ho maneggiato male la sedia a rotelle e sono caduta. Fa male. Perché? Sentivo che se non avessi parlato, la paura mi avrebbe sopraffatto. Dove mi trovavo? Sarei morta sola, abbandonata? Mentre la disperazione minacciava di affogarmi e le lacrime scorrevano libere, una voce familiare ruppe il silenzio. La porta si aprì e mi sentii avvolgere dal calore. Mi dispiace tanto, Catherine. Emily. Sei tu, Emily? Le braccia che mi stringevano tremavano e sentivo dell'umidità sulla spalla destra. Emily stava piangendo mentre mi teneva in braccio. Ma perché? Cosa mai sta succedendo? Ora andrà tutto bene. La voce rassicurante di Emily soffocò la mia confusione e le mie domande. E proprio in quel momento mi ritrovai sotto la protezione di Emily. Tre giorni dopo, dalla tv che Emily aveva preparato per me, andava in onda un servizio su un particolare negozio. Mentre ascoltavo attentamente, mi chiesi, ehi, che diavolo è questo? Al rumore della porta che veniva aperta, sentii la voce della persona che più detestavo al mondo. Bene, bene, guarda chi ha deciso di farsi vivo. Catherine, stai bene? Sì, assolutamente. Anch'io ho un conto in sospeso. A quanto pare, Mike era chiaramente in preda al panico. Io ed Emily lo abbiamo affrontato. Perché diavolo sei vivo? Perché l'ho salvata, ovviamente. Quel giorno, Emily era arrivata alla casa abbandonata prima di noi e si era nascosta nelle vicinanze, aspettando il nostro arrivo. E dopo aver confermato che Mike se n'era andato, è venuta a salvarmi. Hai detto di aver tradito Catherine. L'ho fatto. Ma non Catherine. Quello che ho tradito sei tu, Mike. In realtà, subito dopo l'incidente, Mike ha iniziato ad avvicinarsi a Emily, cercando di uscire con lei. Nonostante si mostrasse preoccupato per me. Provavo una profonda sfiducia nei confronti di Mike per le sue avanza lei. Ti rendi conto che avevo il libretto di risparmio dei sogni di Catherine. Giusto? E volevi anche i miei risparmi. Aveva capito il suo piano. Rifiutarlo completamente era facile, ma temeva che lui potesse farmi del male. Così Emily decise di assecondare il piano di Mike, fingendo di tradirmi. Che cosa è successo? Sembrava che Mike fosse scioccato, non aspettandosi di essere stato ingannato. Emily aveva spostato i suoi risparmi su un altro conto e, per guadagnarsi la sua fiducia, aveva consegnato a Mike il libretto svuotato. La sua strategia per impedirgli di usare i fondi del libretto era davvero ammirevole. Mentre Mike era fuori pericolo, lei andò avanti e comprò la casa abbandonata in cui mi aveva lasciato. Se la lasciate in quella casa abbandonata, non verrà mai trovata. In questo modo, tutti penseranno che è scomparsa perché non è riuscita a gestire la situazione. Era stata lei a istigare Mike con questa idea. Di conseguenza, Mike, senza alcun sospetto, mi lasciò nella casa abbandonata e fui recuperata da Emily. Sei stato così ingenuo, Mike. Grazie a te, abbiamo potuto realizzare il nostro sogno di aprire il nostro caffè vintage. Sì, il nostro sogno era gestire un caffè vintage. Emily aveva ristrutturato la casa abbandonata acquistata. E proprio ieri è stata inaugurata. E fino a poco fan e stavano facendo una trasmissione televisiva in diretta. Quello che trasmettevano in tv risaliva a quel periodo. Probabilmente Mike ha visto la trasmissione in tempo reale e si è precipitato lì. Non può essere, non posso essere stato ingannato. Mi scusi? Mentre Mike era in stato di shock, si sentì il rumore di un gruppo che entrava nel bar. Emily mi sussurrò che era la polizia. A quanto pare, li aveva chiamati lei. Dobbiamo parlare della questione della signorina Catherine. Io, io non l'ho fatto. Ecco, questa è la prova. La prego di prenderla. Grazie per la collaborazione. Dopodiché, ho sentito Mike che veniva portato via dalla polizia, gridando a gran voce. Mi è sembrato di sentirlo chiedere aiuto, ma l'ho ignorato. Se n'è andato? Sì, è sparito. Con la scomparsa di Mike, il caffè si è ammutolito. Catherine, cosa c'è che non va? Mi dispiace. Dammi un momento. Non potevo fare a meno di piangere. Avevamo finalmente realizzato il nostro sogno di aprire il caffè vintage. Avevo lavorato tanto per creare uno spazio rilassante per tutti. Nonostante questo, considerando il mio stato attuale, non solo la gestione del caffè, ma anche il fatto di essere un peso per Emily era un mio pensiero. In questo momento, forse abbiamo dei clienti perché siamo nuovi, ma non è detto che continueranno a venire. Con questi pensieri, non riuscivo a smettere di piangere. C'è ancora speranza. Forse posso ancora vedere. Infatti, al momento dell'incidente ho subito un intervento agli occhi. Per questo motivo, attualmente porto una benda sull'occhio. Tuttavia, la possibilità di essere cieco è alta e, anche se non lo fossi, mi è stato detto che la mia vista sarebbe notevolmente ridotta. Con la parte inferiore del corpo paralizzata, il sospetto del tradimento di Emily e l'atteggiamento di Mike, il mio stato di debolezza mi ha impedito di rimuovere la benda. Mi ha fatto credere di aver perso la vista. Ho mantenuto la promessa di realizzare il nostro sogno. Allora, andiamo insieme all'ospedale. Io annui in risposta. E nel nostro giorno libero, Emily mi portò in ospedale. Quando la benda è stata rimossa, sono riuscita a percepire la luce. Con qualche aggiustamento, come gli occhiali, dovresti stare bene. Le parole del medico portarono grande gioia a Emily. Sinceramente, non riuscivo a vedere la sua espressione. Ma pensai di fare un altro tentativo e di insistere ancora un po'. Dopodiché, divorziai da Mike, grazie all'indagine approfondita di Emily. Venne alla luce il motivo del comportamento oltraggioso di Mike. Mike mi aveva tradito con una collega più giovane. Inoltre, era stata proprio quella donna a investirmi con la sua auto. Entrambi furono arrestati per i loro rispettivi reati e dovettero pagarmi un ingente risarcimento. Ha fatto soffrire la mia migliore amica. Non lo perdonerò mai, disse Emily. Emily, calmati. Senza che tu faccia nulla, è già diretto all'inferno. Durante un'intervista, ho accidentalmente detto perché sono finita così. E anche di essere stata abbandonata da Mike. Naturalmente Mike è stato licenziato. Anche se viene rilasciato, lo attendono giorni infernali. D'altra parte, le cose stavano andando bene per me. Grazie all'accordo, ho potuto comprare dei buoni occhiali. Con il recupero della vista, la mia motivazione è salita alle stelle. Il fatto di essere su una sedia a rotelle non era cambiato, ma l'elenco delle cose che potevo fare era aumentato notevolmente. Tutti gli oggetti venduti nel nostro negozio sono fatti a mano da me e continuo a farne altri anche durante le ore di lavoro amministrativo. Questi oggetti sono molto apprezzati dai clienti e sono stati una fonte di profitto per il negozio. Con il negozio in piena espansione, mi ero completamente dimenticata di Mike. Poi, un giorno prima dell'apertura, è passato a trovarmi. Catherine, mi dispiace davvero? Lo ignorammo e continuammo la nostra solita routine preapertura. Ehi, tu? Lo chiamò un cliente. Eh, non sei tu quello che ha lasciato la moglie. Che diavolo ci fai qui, mostrandoti così spudoratamente? Mike, sentendo la pressione dello sguardo del cliente, se ne andò in fretta e furia. Sorrisi in segno di gratitudine al cliente. Grazie, Robert. Non c'è problema. Sono contento di essere arrivato in anticipo. Robert era un cliente abituale del nostro negozio e aveva fatto da cameraman durante la visita della troupe televisiva. Ha continuato a sostenerci come cliente anche dopo la trasmissione. Oggi preparerò dei drink. Per favore, si assicuri di ordinarne uno, gli dissi. Davvero? Non vedo l'ora. Voi due siete piuttosto obvi, non è vero? Emily ridacchiò, intuendo che c'era qualcosa tra noi. Ripensandoci, sono davvero felice di aver accettato quell'intervista. Ora dobbiamo assicurarci che non si faccia più vedere, osservai. Oh, posso consigliarvi un buon avvocato per questo, si offrì Robert. Grazie, lo apprezzeremmo molto. Non posso perdere altro tempo con un tipo del genere. Devo lavorare sodo per i nostri clienti. Ben presto tornai a dedicarmi al mio lavoro, con i due che mi guardavano con occhi gentili. Qualche tempo dopo, Robert osservò. Sembri così felice oggi. È successo qualcosa di bello? Sì, in realtà ho ricevuto una lettera l'altro giorno. Nella lettera si diceva che il mio lavoro era stato fonte di ispirazione per molti. Questo mi ha reso incredibilmente felice. Quando sorridi così, sei così bella. Catherine. Mi piaci molto. Prenderesti in considerazione l'idea di uscire con me? La sua confessione mi colse di sorpresa. A dire il vero, anch'io provavo le stesse cose per lui. Ma c'era la mia condizione da considerare. Gli spiegai la mia situazione e lui disse che non gli importava. Tuttavia, volevo prendermi un po' di tempo per riflettere. Voglio solo che tu sia felice, osservò Emily. Non è così semplice, risposi. Assicurati solo di non avere rimpianti. Sì, grazie. La vita per me era abbastanza tranquilla. Mike, invece, si è ritrovato pieno di debiti. Riuscì a trovare un lavoro, ma poco remunerativo e sovraccarico di lavoro. Inoltre, la famiglia della sua partner gli stava dando filo da torcere. Pretendevano che si assumesse la responsabilità di avere una relazione con la loro figlia. Beh, tutto quello che posso fare è incoraggiarlo da lontano. Dopotutto, se l'è cercata. Sarei preoccupato se ora si affidasse a me. Grazie all'avvocato, Mike non ha potuto chiedermi aiuto e sembra che sia in difficoltà. Se l'è cercata, mormorò Emily mentre esaminava alcune informazioni trovate da un investigatore privato. Ero d'accordo con lei. Più tardi mi risposai con Robert. Lui accettò tutto di me e io scelsi di rispondere ai suoi sentimenti. Mentre Emily celebrava la nostra unione, anche lei aveva una persona speciale nella sua vita. Ha parlato di un uomo che ha aiutato a ristrutturare la vecchia casa per trasformarla in un bar. A quanto pare, da tempo provavano dei sentimenti reciproci, ma esitavano a causa della differenza di età. La conoscenza della nostra relazione l'ha incoraggiata a perseguire la propria felicità. È tutto merito tuo, Catherine, ha detto Emily. E io devo tutta la mia felicità a te, Emily. Se fossi stata sola, avrei rinunciato alla vita molto tempo fa. Sono davvero grata di avere Emily al mio fianco. Continuerai a starmi accanto d'ora in poi? Le chiesi. Certamente. Finalmente sento di aver ripagato il favore, rispose Emily. Confusa dalle sue parole, inclinai la testa. Mi hai salvato ai tempi della scuola, spiegò Emily. Eh, a quanto pare, Emily si era sentita isolata alle medie. Quando ci siamo incontrate alle superiori, sono stata gentile con lei e questo ha cambiato tutto. Poiché credevo nei suoi sogni e la sostenevo, si sentiva motivata ad andare avanti. Sentendo questo, mi sono venute le lacrime agli occhi. Decisi che avremmo dovuto continuare a coltivare il legame che ci univa. Grazie.